Le farfalle sono considerate uno degli esempi di massima eleganza e bellezza tra gli animali ma di farfalle ce ne sono veramente tante e quando la famiglia è numerosa aumentano anche le probabilità che salti fuori qualcuno di strano Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video quest'oggi parliamo di farfalle che sono tra gli insetti che fortunatamente per loro stanno più simpatici alle persone a meno che non siate papilofobici infatti ci sono persone per le quali le farfalle sono spaventose esiste anche tra l'altro la mottefobia che è la fobia delle falene ovvero le farfalle notturne infatti no, si sa, le farfalle volano di giorno e le falene volano di notte a parte che ci sono falene diurne però a livello scientifico sappiate che non esiste una differenza di classificazione tra farfalle e falene e qui qualcuno subito penserà le farfalle volano di giorno e le falene volano di notte a parte che ci sono falene diurne ma a livello scientifico non esiste in realtà una differenza di classificazione tra falene e farfalle infatti l'ordine dei lepidotteri è un ordine di insetti a cui appartengono più di 150.000 specie e all'interno non è che sono divise a livello di classificazione in falene e farfalle sebbene dicendo farfalla si potrebbe comunque riferirsi alla superfamiglia dei papilionoidei quindi una cosa in particolare le cosiddette farfalle diurne però il 90% dei lepidotteri praticamente sono falene falena non vuol dire nulla scientificamente perché ci sono svariate decine di migliaia di specie di falene che fanno parte di gruppi spesso non particolarmente imparentati tra di loro all'interno dell'ordine dei lepidotteri quindi sì nel parlato comune va benissimo usare falena lo farò anch'io in questo video l'importante è sapere che non ha un significato scientifico ben preciso a livello di classificazione spesso il nome falena appunto si usa per indicare le farfalle che non ci piacciono e già lì mi immagino quelli tra di voi che diranno che le farfalle sono belle e le falene sono brutte no per niente l'actias luna è una falena l'attacus atlas è una falena l'automeris io è una falena motra è una falena quindi non c'è di che questo infatti si riflette anche in quello che si sa culturalmente di questi animali molte farfalle hanno nomi che rimandano a donne e sono spesso un simbolo di femminilità e grazia mentre diverse falene sono associate alla morte e agli spiriti come per esempio la sfinge testa di morto presente tra l'altro anche dalle nostre parti sì è quella del silenzio degli innocenti prima di raccontarvi quello che sa combinare che è degno di nota vi invito ovviamente a iscrivervi al canale e seguitemi anche su instagram twitch spotify secondo canale e patreon trovate tutto in descrizione allora il nome scientifico di questa falena è tutto un programma si chiama Acherontia atropos l'Acheronte è un fiume che scorre negli inferi e atropo è una delle tre moire della mitologia quella che tagliavano il filo della vita il nome comune sfinge testa di morto è dovuto al fatto che c'è una macchia simile ad un testio sul torace di questa falena che ne ha decretato la pessima fama unita al fatto che sia bruco che adulto sono capaci di produrre uno stredio facendo passare aria violentemente dalla faringe uno stredio che è udibile fino a 40 metri questa capacità che è unica tra gli epidottori è stata osservata anche nelle altre due specie del genere Acherontia ovvero l'Acherontia stix che prende il nome dallo stige e un altro fiume infernale e l'Acherontia lachesis un'altra delle tre moire che era quella che avvolgeva il filo della vita sul fuso e ne decretava la lunghezza queste caratteristiche no? macchiatteschi o stredio eccetera hanno fatto sì che in passato si pensasse che fosse un animale che annunciava rovina, guerra, morte e pestilenza in realtà poverina non fa male a nessuno è pressoché indifesa insomma punta a non farsi vedere con il suo colore mimetico ma se minacciata emette quel suono lì e al contempo apre le ali facendo vedere le striature giusto per avere qualche chance in più di spaventare il predatore ma in realtà è particolare ancora per un altro motivo infatti di norma come si sa i lepidoteri si nutrono del nettare dei fiori grazie al loro apparato boccale hanno una sorta di proboscide srotolabile chiamata spiritromba che però nella spingia testa di morto è corta e robusta certo anche lei può mangiare il classico nettare ma più che altro di notte ama introdursi negli alveari e siccome ha una cuticola resistente e resiste bene anche al veleno delle api spesso riescono a entrare con successo a quel punto mimano chimicamente le sostanze presenti sulla cuticola insomma l'esoscheletro delle api e facendo questo si mimetizzano chimicamente alle api arrivano poi alle riserve di miele bucano le cellette con la loro spirotromba appuntita e robusta e si rimpinzano a volontà a volte però le api si ne accorgono e attaccano la falena uccidendola per poi cospargerla di propoli e la falena tra l'altro così mummificata rimane lì nell'alveare quindi è vero non annuncia morte e distruzione ma comunque ha delle caratteristiche davvero fighe perché insomma tra il rumore e questa cosa che si introduce negli alveari insomma è degna di nota una caratteristica famosa delle farfalle è il loro ciclo vitale insomma da piccole sono molto diverse da come sono da grandi la loro larva, il bruco, è in sostanza una macchina da ingrasso che ha lo scopo di accumulare sostanze nutritive per crescere attraverso le varie mute, cioè i cambi della sua cuticola crescerà fino ad arrivare allo stadio di pupa quella comunemente detta crisalide ora la pupa non è una cosa esterna al bruco è uno stadio che fa parte del bruco cioè il bruco non è che è lì dentro a fare le sue faccende quello lì è il bruco che sta riorganizzando i suoi organi interni in attesa del giorno in cui metamorfoserà in adulto facendo di fatto un'ultima musa infatti i bruchi hanno tante zampe questo apparentemente può turbare quelli che sanno che gli insetti ovviamente di zampe ne hanno sempre solo sei in realtà le prime sei zampine, quelle vicine alla testa sono effettivamente le zampe dell'insetto le altre sono pseudo zampe cosiddette ovvero false zampe che durante lo sviluppo che porta all'adulto vengono riassorbite e quando l'adulto esce dalla pupa si dice che il bruco sfarfalla e questo è un termine in generale che si usa per tutti gli insetti che fanno la metamorfosi in adulto quando arrivano appunto a diventare adulti qualche bruco tesse anche un bozzolo di seta attorno a sé quando fa la pupa come ulteriore protezione gli insetti che fanno la metamorfosi che si chiamano insetti olometaboli sono gli insetti di maggior successo in termini evolutivi perché hanno fatto in modo che adulti e piccoli siano così diversi che non vanno in competizione per le stesse risorse e infatti di norma gli adulti mangiano il nettare e i bruchi le piante di norma ma c'è un bruco fuori di testa che vive alle Hawaii che vi piacerà allora alcune specie del genere eupitecia infatti da grandi sono farfalline che non danno assolutamente nell'occhio ma scordatevi i classici bruchi tranquilli le loro larve sono molto mimetiche sia nella forma sia nel colore e fin qui nulla d'eccezionale si mettono fermi impalati sui rami senza far nulla così quando un piccolo insetto tocca la parte posteriore del loro corpo reagiscono violentemente alla stimolazione piegandosi in avanti acchiappandolo con le loro zampe modificate che sono appuntite lunghe ricurve e sì, sono bruchi carnivori che cacciano d'agguato in pratica com'è successo? probabilmente gli antenati di queste farfalle da bruchi facevano una dieta ricca di polline proteico e avevano una risposta di difesa a scatto visibile tra l'altro in altri bruchi e questo col tempo è servito come preadattamento alla dieta carnivora fatto sta che solo una manciata di specie di lepidotteri hanno bruchi specificatamente predatori un altro per esempio viene dalle Hawaii anche lui e si chiama iposmocoma molluscivora è un bruco che sa fare la seta come molti altri ma la usa per intrappolare le chiocciole e mangiarle vive quasi come fosse un ragno top ma ce ne sono altre di diete strane per esempio la hemiceratoides hieroglipica una falena del Madagascar nota da tempo ma è solo dal 2006 che si è scoperto una sua, come dire, passione particolare che no, non è il bricolage se qualcuno se lo sta chiedendo in sostanza hanno una spiritromba appuntita e uncinata di notte quando gli uccelli dormono lei si avvicina a loro gli infila la spiritromba tra le palpebre e ne beve le lacrime meraviglioso la passione per le lacrime in realtà non è una novità per le farfalle si sa che le farfalle, a volte in gruppi numerosi si posano sul fango per succhiare appunto dai liquidi alcuni nutrienti utili come amminoacidi e sali minerali e questo comportamento in realtà non è limitato solo al fango può capitare addirittura che si posino sullo sterco sulla materia vegetale in decomposizione o addirittura sulle carogne degli animali ha un nome preciso questo comportamento ovvero mud paddling in questo caso anche il sudore umano può essere attraente per loro in questo senso e i maschi poi di molte specie tra l'altro sono gli unici a praticarlo poiché grazie a questi nutrienti hanno un maggiore vantaggio in termini di fecondità quando arriva il momento di accoppiarsi in qualche caso possono anche posarsi vicino agli occhi di rettili o mammiferi per suggere le loro lacrime contenenti appunto sali minerali dei quali questi animali si vogliono disfare nonostante possano aggregarsi diverse farfalle in gran parte dei casi agli animali che prestano diciamo le loro lacrime non pare infastidire troppo la loro presenza viste le numerose foto che si trovano per esempio su internet mentre si vedono caimani o tartarughe fermi al sole a fare basking cioè a termoregolare con gli occhi ricoperti di farfalle questa interazione viene detta oftalmotropismo e prima dello studio del 2006 di cui parlavo non era mai stata osservata in Madagascar né in generale su un uccello tra le altre cose la forma specializzata della spiritromba di questa farfalla è utile probabilmente per arrivare all'occhio dell'uccello e ancorarsi perché a differenza dei mammiferi gli uccelli hanno oltre alle due normali palpebre anche una membrana nittitante che protegge l'occhio in più probabilmente la condizione ancestrale di questo comportamento è quella che si osserva in falene simili che utilizzano una spiritromba di forma simile per perforare i frutti e nutrirsene forse è stato selezionato perché oltre a contenere sali minerali le lacrime contengono anche proteine come albumina e globulina e fare la stessa cosa comunque in una pozza di fango all'aperto espone maggiormente al rischio di essere predati rispetto a fare così in tutto questo ricordiamo gli uccelli osservati durante il fattaccio non hanno mostrato segni di disturbo perciò non deve essere così traumatico tra le altre cose le falene che lo fanno di notte al di fuori del Madagascar lo fanno su grossi mammiferi ma in Madagascar oggi di grossi mammiferi autottoni non ce ne sono più perciò questo spiega magari perché si sono specializzate negli uccelli ma si può fare di meglio attenzione le falene del genere caliptra sono circa 18 specie dipende un po' dagli autori alcune lo fanno questo discorso con le lacrime dei grandi erbivori ma qualcuna ha per così dire fatto un upgrade non è un caso infatti che le chiamino falene vampiro infatti in 8 specie di questo genere è stato riportato in natura il consumo attivo di sangue anche sulle persone due specie invece hanno mostrato il comportamento in laboratorio o in condizioni di semilibertà queste falene quando arrivano sull'animale srotolano la loro proboscide puntuta e premono avanti e indietro con la testa per farla penetrare e poi gli uncini sullo spiritromba la ancorano e lei succhia e possono metterci anche 50 minuti prima di finire cosa particolare negli insetti succhia sangue di norma è la femmina a succhiare il sangue ma qui è il contrario solo i maschi di queste farfalle infatti mostrano questo comportamento le femmine si nutrono di nettare e frutti una spiegazione non confermata potrebbe essere che i maschi succhiano il sangue per i sali minerali che poi trasmettono alle femmine nel loro sperma durante la riproduzione come possibile beneficio per lo sviluppo delle uova chiarimento dovuto da fare tutte le farfalle di questo genere compresi i bevitori di sangue si nutrono normalmente perforando la frutta per succhiare il succo bere sangue in queste creaturine è facoltativo non obbligatorio in effetti come per la falena del Madagascar che vi dicevo prima il comportamento si è evoluto proprio dal perforare i frutti il segno lasciato dalla puntura diciamo è più fastidioso di quello di una zanzara ma non è un rischio sanitario per gli esseri umani alcune farfalle poi si sono specializzate a vivere in posti quantomeno bizzarri ad accontentarsi di quello che c'era a livello alimentare per esempio ci sono diverse specie di farfalle della sottofamiglia delle crisaugine che abitano la pelliccia dei bradi qui si sa di varie specie di farfalle di almeno tre generi che sono criptoses bradipodicola e bradipofila che hanno scelto come habitat dell'elezione la pelliccia di questi animali e attenzione sono talmente specializzate che vivono solo lì e non si trovano da nessun'altra parte com'è che campano? allora per esempio le larve del genere criptoses si schiudono nello sterco di bradipo che bel posto dove iniziare la propria vita e lo mangiano ovviamente quando ne hanno mangiato abbastanza fanno la pupa e poi sfarfallano come adulti e a quel punto volano alla ricerca di un bradipo specialmente un bradipo tridattilo gli adulti infatti passano la vita all'interno della pelliccia quando si accoppiano le femmine sfruttano appunto quella volta a settimana in cui il bradipo tridattilo scende dall'albero per defecare in modo da deporre le proprie uova dentro lo sterco del bradipo e poi ricomincia da alcune osservazioni pare che molte femmine di falena tra l'altro non facciano ritorno alla pelliccia del bradipo dopo la deposizione per qualche motivo vale la pena chiedersi perché investire in questa scelta in termini evolutivi forse per proteggersi dai predatori come gli uccelli comunque ci sono dei tasselli non ancora chiari perché non è facile capire come interagiscano con gli altri elementi della pelliccia del bradipo non essendo ovviamente molto facili da studiare infatti come sapete nella pelliccia del bradipo c'è un ecosistema tutto particolare ci sono alghe e funghi oltre che diversi tipi di insetti forse i funghi decompongono le falene morte nella pelliccia nutrendosi e mettendo a disposizione sostanze utili per la crescita delle alghe che potrebbero anche essere nutrite dallo sterco del bradipo portato sulla pelliccia dalle falene dando al contempo una risorsa nutritiva addizionale al bradipo che queste alghe pare anche che se le mangi nonché un bonus mimetico contro eventuali predatori perché lo renda un verdastro però insomma c'è ancora da capirla bene sta cosa alcuni individui di bradipi tridattili hanno addosso più di 100 falene contemporaneamente e più specie di questi insetti possono coesistere nello stesso momento nello stesso bradipo insomma le farfalle e le falene come avete visto non sono scontate come molti potrebbero pensare in questo video ho fatto una selezione di quelle che preferivo per raccontarvi un lato nascosto della loro vita diciamo e spero che coloro che tra di voi non le apprezzano particolarmente le abbiano un minimo rivalutate certo difficile farlo in un video in cui vi ho detto che alcune bevono le lacrime degli uccellini però come sapete i miei video di norma sono un inno alla diversità dell'evoluzione e ai milioni di cammini che si sono avvicendati nel corso della storia naturale e come tali dovrebbero essere presi quindi se non volete perdervi tutte quante le news dove parlo di animali strambi seguitemi su Instagram Twitch Spotify e anche su Patreon se volete diventare un mangiafoglie sciamante e avere accesso al gruppo Telegram ufficiale vedere video in anteprima merchandise esclusivo e un sacco di altra roba trovate tutto come sempre in descrizione anche la wishlist Amazon con cui potete aiutarmi ad arricchire i contenuti della mia attività grazie di cuore a chi già ne ha usufruito il libro consigliato di oggi che l'ho lasciato qua sulla scrivania senza rendermene conto per tutto il video è Scoiattoli e Co un saggio sulla vita di Scoiattoli e altri roditori per i miei gusti l'autore quando parla dello Scoiattolo grigio secondo me avrebbe dovuto citare più bibliografia riguardo il suo impatto negativo ma in generale l'ho trovato interessante a livello bibliografico ovviamente vi lascio il link Amazon per recuperarlo in descrizione assieme ai consueti consigli di lettura in descrizione trovate anche il link al mio merchandise ufficiale sono arrivate appunto tra l'altro delle nuove grafiche per le maglie e vi ricordo che in descrizione trovate anche il link per recuperare la serie di modellini di animali per storici stampati in 3D che è quello da consulente questo è l'ultimo uscito Dreadnotus e come sapete su Twitch la reference per questo modellino l'ha fatta Marco Auditore che è uno dei firmatari dello studio famoso sulla coda dello spinosauro quindi insomma tanta roba link in descrizione con anche il codice sconto trovate poi anche il codice sconto di Pampling e ora ovviamente fatemi sapere chi ne avete pensato di questo video vi aspetto appunto nella sezione commenti per avere un vostro feedback se il video vi è piaciuto solite cose lasciate mi piace commentate spammate eccetera e grazie per essere arrivati fin qui e ci vediamo prossimamente ciao ciao Grazie a tutti.